Bentornati su D&D Board Game. Oggi vi vado a parlare di un gioco a me molto caro, se non è il mio gioco preferito poco ci manca. Parliamo di un gioco collaborativo e magari anche un legacy che andremo a vedere che cos'è. Parliamo soprattutto di Pandemic Legacy Season 1. SRS regole? Bene, andiamo a scoprirle. Pandemic è innanzitutto un gioco legacy, quindi esiste sia la versione appunto legacy, quindi che si gioca praticamente solo una volta, come vedete il mio tabellone io l'ho già giocato, il mio tabellone è tutto con degli adesivi, tutto con della roba attaccata e poi esiste una versione classica quindi del gioco che si può continuare a rigiocare. La versione legacy è praticamente un one shot one kill, quindi la giochi, finisci la storia e quello lì non si può più rigiocare perché comunque vai a modificare il tabellone, vai a modificare le regole, vai a modificare le carte eccetera eccetera. La versione invece classica che si può comunque giocare con legacy, adesso poi vi faccio vedere come, consiste invece nel poter giocare le partite quante volte vuoi. Lo scopo del gioco base di Pandemic è quello di trovare la cura delle quattro malattie prima che si attivino i requisiti di sconfitta dei giocatori. Dunque andiamo ad analizzare più che altro il tabellone iniziale. Allora nella parte in alto ci saranno le carte obiettivi e questa parte qui praticamente la parte del legacy compresa di dei vari mesi dell'anno in cui si giocherà. Questa parte qui è sempre la parte legacy, sono i livelli di panico delle città, dopo vi andrò a spiegare a modo i livelli di panico. Questa parte qua sono i focolai che si scaturiscono dalle epidemie e questa parte qui, adesso non guardate questa parte qua, questa parte qui sono le quattro malattie, ogni giocatore può decidere anche il nome per esse. Questa parte qui è la parte delle cure delle malattie, quindi una volta trovata la cura si apporrà il segnalino a questo livello qui. Poi il tabellone con tutte le città, ovviamente ogni città è collegata ad un'altra tramite linee, questo qua servirà più che altro per spostamenti e epidemie eccetera eccetera. Descrizione del turno di gioco, mazzo dei giocatori, pira degli scarti. In alto troviamo mazzo di contaminazione, pira degli scarti di contaminazione e i livelli di contaminazione. Si parte con cinque personaggi base che sono coordinatore, generalista, scienziata, ricercatrice e medico. Ogni giocatore avrà un turno, il turno è diviso in tre parti come potete vedere anche dal tabellone di gioco. Prima parte del turno è quella di fare quattro azioni, quindi che siano guidare o navigare, quindi spostarsi. Volo diretto, quindi scartando una carta città, permette di muoversi fino a una città indicata sulla carta. Volo charter, che significa scartando la carta città della città in cui sei, puoi spostarti fino a una qualsiasi altra carta città. Volo in navetta significa muoversi da una città dotata di stazioni di ricerca, che sono queste qua bianche, fino a un'altra dotata di stazioni di ricerca, quindi per esempio da Giacarta posso muovermi fino al Cairo. Azione costruire una struttura. Come funziona? Scartando la carta città corrispondente alla città stessa, posso andare a costruire una stazione di ricerca, per esempio. Arginare la malattia significa rimuovere un cubo malattia della città in cui ti trovi, a meno che non sia stata curata. Se è stata curata invece rimuove tutti e tre i cubi. Per quanto riguarda il medico è leggermente diverso, perché vai a rimuovere tutti e tre i cubi malattia direttamente, mentre se è stata curata li rimuovi al solo passaggio. Condividere le conoscenze significa scambiarsi carte, la carta diciamo della città corrispondente, tra un personaggio e un altro. Scoprire una cura è l'ultima praticamente azione possibile del gioco base. Presso una qualsiasi situazione di ricerca, scartando cinque carte città, a meno di non essere lo scienziato, dello stesso colore, si cura la malattia di quel colore. Alla fine delle quattro azioni pesca due carte dal mazzo dei giocatori e la pone nella sua mano. Andiamo a vedere come si affronta un'epidemia. Nel caso pescando, si peschi appunto un'epidemia, andrà svolta in questa maniera qua. Quindi prima di tutto va incrementato, quindi spostato il segnalino di livello di contaminazione, che è questo qua verde, quindi si sposta sul livello successivo. Va contaminata, quindi pescata la carta in fondo al mazzo di contaminazione e messi tre cubi su quella città. Andiamo a vedere come. Dopodiché bisogna intensificare la malattia, che significa prendere le carte della pila della contaminazione e mescolarle. Le carte rimescolate andranno messe di nuovo nel mazzo di contaminazione e andrà ripescato due carte. A fine del turno di gioco consiste nel contaminare la città. Quindi andiamo a contaminare la città. Santiago. Santiago parte un'epidemia, un focolaio. Come si risolvono i focolai? Innanzitutto spieghiamo che il focolaio si sviluppa solo quando all'interno di una città ci sono tre cubi malattia, che è il massimo di cubi che la città può contenere. Una volta contaminata di nuovo quella città lì, la città non è più in grado di mantenere la stabilità interna e quindi esplode un focolaio. Il focolaio si sviluppa sulle città adiacenti, quindi in questo caso Buenos Aires e Lima. Si va a porre semplicemente un cubetto malattia alle due città. Dopo il primo focolaio si sposta il segnalino focolaio a livello 1. Andiamo a vedere le mosse dei vari giocatori. Partiamo dal coordinatore. Il coordinatore può scegliere se muovere una pedina di un altro giocatore, muovere la pedina di un altro giocatore fino ad un'altra città dove si trova un'altra pedina. Chiaramente per muovere le pedine bisogna però avere il permesso del giocatore che vi è mosso. Il generalista ha la capacità di fare 5 azioni in un turno. Per quanto riguarda la scienziata servono solo 4 carte dello stesso colore per trovare una cura alla malattia. La ricercatrice invece può condividere conoscenze, quindi può condividere una carta di una città qualsiasi dalla sua mano a quella di un altro giocatore senza trovarsi in quella città. Non funziona viceversa, quindi non può prendere carte dalla mano di un altro giocatore alla sua. Il medico, in assoluto il mio preferito, rimuove praticamente tutti i cubi di una colore quando si usa arginare malattia. Una volta trovata la cura rimuove automaticamente solo al passaggio tutti i cubi della malattia. Andiamo a vedere adesso come prepararci per iniziare la prima partita. Innanzitutto preparate pedine, cubi malattia, tutto quanto a portata di mano. Per prima cosa andate a posizionare i segnalini. Prima di tutto io collocherei quelli per le malattie. Posizionate i segnalini fiala a faccia in su, quindi dalla parte, non questa, ma questa qua. Collocate il segnalino focolaio sullo zero e il segnalino contaminazione sul livello 2. Collocate la stazione di ricerca su Atlanta, che come vedete non è un adesivo in questo caso. Andate a prendere le carte giocatore, che sono queste qui, non queste ma queste qui, e posizionate al loro interno 4 carte evento. Le carte evento finanziato sono queste qua gialle. Rimuovete dalle carte giocatore tutte le carte epidemie e mettetele da una parte. Mescolate il mazzo giocatore, quindi quello con le carte evento e quello con le carte città. A seconda del numero di giocatori andate a distribuire un numero che può essere 4 per 2 giocatori, 3 per 3, 2 per 4 giocatori, di carte appunto corrispondente. Andate a formare 5 pile più o meno di uguali dimensioni, con le carte giocatore, e andate a inserire in ognuna, partendo dalla più piccola, una carta epidemia. Mescolate i mazzetti e andate a formare una pila unica. Andate a collocarla all'interno del mazzo dei giocatori. Selezionate i personaggi tra i 5 disponibili. Collocate le pedine sul punto iniziale che si trova ad Atlanta. Mescolate le carte contaminazione e una volta mescolate ponetele nella casella corrispondente. Dopodiché bisognerà contaminare 9 città. Le prime 3 avranno 3 cubi malattia. Le seconde 3 avranno 2 cubi malattia. Le ultime 3 avranno 1 cubo malattia. Andiamo a vedere come. Alla prossima. 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 il gioco termina se i giocatori riescono a trovare le cure di tre malattie virali una volta scoperta la cura della malattia si girerà il segnalino corrispondente della malattia in maniera tale che si capisca che la cura della malattia è stata trovata se la malattia viene debellata il segnalino si sposta sopra la malattia stessa la malattia viene debellata solo quando non ci sono più segnalini di quel colore lì sul tabellone quindi una volta trovate le tre malattie termina il gioco con la vittoria dei giocatori questo è l'unico modo possibile per vincere per quanto riguarda invece le sconfitte che sono molto molto più frequenti esistono vari modi per essere sconfitti il primo se il segnalino focolaio arriva a livello del teschio il secondo se non riuscite più a collocare cubi malattia di quel colore sul tabellone il terzo se finite le carte giocatore quindi il giocatore non riesce più a pescare le due carte quindi se ne pesca solo una il gioco è finito per quanto riguarda la parte legacy ecco la parte legacy avrà delle sue regole che cambieranno di volta in volta a seconda del mese in cui giocherete mese che non è dato dal mese reale ma proprio dal gioco che si compone di tabelloni top secret che non vi sto a far vedere degli scompartimenti top secret e delle carte speciali che sono contraddistinte da un numero dunque non vi parlerò del legacy per non spoilerare nulla partite dalla parte base dal gioco base e poi andrete a fare il legacy il legacy è molto molto emozionante perché non saprete mai cosa vi accade alla fine della parte legacy dovrete compilare il calendario di gioco che vi dirà se avrete vinto o perso e vi darà dei bonus finali per quanto riguarda il legacy avrete anche la questione di nuove abilità e delle cicatrici inoltre avrete anche tutta la parte delle città stabili e instabili eccetera una volta che si scatena un focolaio all'interno della città il livello di panico cambia qui comunque nel tabellone avrete tutto quanto il necessario per riuscire a capire cosa si può e cosa non si può fare tutti i giocatori quindi avranno lo stesso compito salvare il mondo dalle quattro malattie che la stanno contaminando è un gioco in cui ogni mossa può essere decisiva è molto divertente molto anche un po' frustrante quando si perde perché si perde spesso quindi non abbattetevi è normale quindi ci rivediamo per il gameplay ciao a tutti